Oggi faremo il primo consiglio nella fantastica cornice del Teatro Marruccino. Personalmente ho voluto che le misure di restrizione per il problema del Covid venissero rigidamente osservate, per cui mi è dispiaciuto, ma ho evitato che venisse, che il teatro si riempisse di pubblico. Però può essere seguito il consiglio in streaming e in diretta Facebook. All'ordine del giorno abbiamo la nomina dei consiglieri, la elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio, il mio giuramento e altri punti in questione, però spero sia anche come una specie di festa. Possiamo dire che oggi parte ufficialmente la nuova consigliatura? Sì, diciamo che parte ufficialmente, anche se ufficiosamente è partita già da diversi giorni, in quanto abbiamo già dovuto accollarci tanti problemi che stiamo alla cremende risolvendo, sempre con spirito di squadra. Per quanto riguarda le nomine dei consiglieri e del Presidente del Consiglio, ovviamente soprattutto per la nomina del Presidente del Consiglio non ci saranno sorprese? Penso di no. Nominato Luigi Febo e quindi penso che sarà sicuramente eletto tale. Grazie. Grazie.